In arrivo sul monte Passo di Codi, ecco la lavetta, una bella escursione, il tempo gradevole, non ha fatto caldo, dirà una leggera brezza che affievolisce la fatica. Siamo qua io e Fabio, bella cosa, anche se qua non esce un po' con condizioni un po' non dico problematiche, però un po' così, diciamo, ha fatto a me la mano, come potremmo dire? Versi? No, diciamo variabili, non dovremmo uscire mai, quindi, tanto siamo tutti abbastanza intelligenti, che se uno dovesse vedere che il tempo peggiora, torna indietro. Siamo anche pronti, si è attrezzati, direi, eh. Eccoci qui. Questa è una bella cima. Siamo quasi arrivati, ecco qui, Monte di Codi, 2.011 metri, ecco qua, come vedete c'è anche scritto qui. Un saluto a tutti, da Fabio. Ciao ragazzi. Sì, se riesco a ricicurarsi.